La faccenda riguarda centinaia di cittadini di origine brasiliana che hanno con la connivenza di agenzie e di autorità locali acquisito rapidamente e falsamente la cittadinanza italiana simulando la loro stabile residenza nella provincia di Teramo senza che ciò fosse vero. Le indagini in modo incommiabile sono state sviluppate dalla squadra mobile della questura di Teramo e hanno consentito di accertare da parte della procura di Teramo un sistema ben oliato che riguardava centinaia di pratiche e in cui diversi comuni della provincia di Teramo con la connivenza di agenzie e autorità locali falsificavano tutta una serie di accertamenti per far risultare queste persone di origine brasiliana, cittadini di fatto italiani, in quanto ciò non era vero. L'indagine è molto lunga, molto complessa perché la materia è molto molto articolata, ha richiesto l'impegno di tantissimo personale e l'acquisizione e la lettura soprattutto di un voluminoso carteggio entro cui andare a leggere queste violazioni di reati contro la pubblica amministrazione. Sicuramente andrà avanti, ritengo che Teramo in questa situazione abbia squarciato un velo di omertà su questo fenomeno ma soprattutto diciamo che l'ufficio ha fatto un grande salto di qualità perché ripeto sono reati di difficile accertamento. Attualmente in questa prima tranche sono state eseguite 10 ordinanze applicative di misure cautelari del divieto di dimora in tutti i comuni della provincia di Teramo. L'indagine sta proseguendo e attualmente ci sono altre persone coinvolte e sono al baglio del GIP e la loro posizione. Si tratta chiaramente di tutti quei pubblici ufficiali dei comuni coinvolti, quindi ufficiali dello Stato civile e vigili urbani, che ovviamente concordavano ed facevano parte di questo accordo che consentiva l'accelerazione della pratica con i titolari delle agenzie colpiti oggi invece già da questi divieti di dimora. Grazie.